Quali problemi vi crea la presenza di quest'ala che, almeno come dice lei, non ha nessun valore architettonico, ma potrebbe contribuire anche a migliorare la vivibilità di questa zona, visto che molto spesso mi diceva che ci sono problemi per le ambulanze quando devono prestare soccorso. Ma parlando delle ambulanze, proprio ieri al 13.40 c'era un caos in piazzetta per un signore che si è sentito male, la verità c'era pure la gravidanza, in quanto c'erano due ambulanze e 50 macchine che quell'ora di punta ognuno si ritira a casa per pranzare, la quale c'era un caos non indifferente e io prendo questo spunto perché non è solo l'ambulanza, ma anche noi stessi che abitiamo sulla piazzetta vengono a lavorare e il costo a noi è superiore perché qua sopra nessuno vuol venire, perché non c'è spazio nemmeno per fermare una cabionetta, giustamente oggi si lavora con macchine. Secondo quest'ala che deve essere abbattuta, il problema è questo, noi la vogliamo abbattuta perché? Perché non ha nessun valore oggi come oggi, anzi battendo quest'ala possiamo valorizzare possibilmente l'altro, questo lato dove c'erano le scuole. Avendo lo spazio dove si può girare un'ambulanza, una macchina, gli stessi genitori che portano i bambini a scuola, si potrebbe valorizzare di più e abbiamo un'area in più. La piazzetta va denominata come centro di tutto per la gente, ma noi abbiamo adesso tutti gli anziani qua sopra, parto da me, non tengo più 50 anni, me ne tengo 69, io vado verso la vecchiaia e mi piacerebbe pure a me con tutti gli anziani avere una banchina, una comodità dove posso vedere un bambino camminare facile, senza pericoli, di macchine e niente. Noi questo abbattimento lo vogliamo per dare un po' di vita in più al centro, perché i nostri nipoti, i nostri figli ritornano a abitare in piazzetta. A me, secondo me, l'avvocato Palladino, a tavolino è facile parlare, però dovrebbe vivere qua sopra, chi vive qua sopra ha i problemi, lui non sono apposta questi problemi, a tavolino non si fanno i giochi, si fanno personale sul posto, noi le conseguenze le subiamo noi cittadini, noi che abitiamo qua sopra, ma non parlo solo della piazzetta del centro storico, io parlo in tutto il centro storico di Sala Consilina, vogliamo valorizzare il centro storico, loro politici valorizziamo il centro storico, quando poi c'è la possibilità di fare un lavoro, mettono il bastone fra le ruote, proprio Angelo Palladino, che noi l'abbiamo sempre sostenuto, è votato quando si è presentato alla provincia, questo è il regalo forse che ci vuole dare? Un'ultima cosa, nella lettera che lei ha fatto pubblicare su un quotidiano, aveva posto delle domande, le risposte quali sono state? Io la verità, mi aspettavo la verità che un politico come Angelo Palladino avrebbe risposto a noi cittadini della piazzetta e a tutti i paesi, per quello non ha risposto ancora, non lo so, se ha la coscienza a posto o non ci vuole rispondere perché ci mantiene come se fossimo l'ultima ruota della carretta. In merito ai lavori che stanno facendo? Stanno facendo panno schifo. Per quale motivo? Che cos'è? Per quale motivo? Il motivo è che è stretto, poi hanno messo queste pancarelle in l'occhio e magari pure uno cristiano scappano sotto. La stessa cosa, pure un'ambulanza mi dicevano prima? Un'ambulanza, sì, sì. Come siamo noi malati? Non ne curano proprio in casa, io sono malati, non ne curano proprio in casa. Grazie. 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 Grazie.